no si ma che sa quando c'è un pedo fuori serio l'emico in discesa nell'area operativa beh ragazzi una partita di riscaldamento è andata bene io ho fide che innaziti è stato un grande sport caci sono ammazzato un francese de merda mo di chi ha avanti doping occhio eh mo di chi ha avanti doping cazzo vaffanculo lo devi chiamare Federico ma no Jacopo si chiami Federico qua non capisci che è il futuro nostro noi ci ricensiamo stiamo lavorando Zagro Federico Federico c'è ma no ho capito ma V2 è stato giocato a entrare alla stessa casa è diventata la stessa camera sta a 30 cm questa merda mi sono stati allora il cerchè dell'uomo da giocaratcici c ok all'uomo da qui a lui gioca a pc dio chi cazzo parla l'ho capito e poi vado a roma jacobo segno che le pericolo quindi andrea c'è stasera o si notte a roma guarda aria convergi convergine sceso team porco di se sceso malissimo un po' no di po' questa è la vita a tutti adesso io sono tutto vero era uno bifurio grande piramide fatto 1 ma fatta a me oddio aia eccolo sotto sotto ci sono ammazzato questa merda bizzeria poi una volta che ci sono la terra Federico si è andato a montare le mani l'ha bagnato eccovi scusate che stava montando le mani e mandaci arriva ma in breve ma in dove si può scendere in breve ma quando porco dio si è riuscito qua io come quando non sono e ormai che faccio il rivolto è un video perché sono l'ultimo no come di così me l'ansia di nuovo quando la gente ha detto che non è vero la scuola con perciò quando stanno raga via gente che c'ho da me raga io sto ai proiettili raga sto ai proiettili arriva ai proiettili ce so pure io vieni con me vieni con me aspettate quello finito occhio stanno a scendere o dentro 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 segreto porco zio non passo siamo tutti nella zona sicura targa zio c'è tutto qui targa zagros perché sta sotto non c'è mamma mia l'ha ammazzata per me non si nice 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 ma è pure glotta lei ho un'altra volta ammazza e palle ma che si non le mordono eh se non mi hanno fatto in me ho capito porco disse ma scendono uno per porta parco dio dad ma raga veramente è possibile è possibile dai ma che è oggi ho ho fatto io questo sopra eh eh ce n'è un altro 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 oddio altri due so parco dio non sparare non sparare blu 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 ahii vale vai 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 sono 3 son tre sopra raga che neve vabbè chiamava fa mentre eliminare lo spedio vabbè intanto morire per poschio migliore come direbbe nonno ma io voto non fare queste colpi via quali e qua c'è un'arma quali acqua che venga di colpi aiari che altro c'è il muoio cioè corazza non c'è un cazzo c'è un cecchino tutto questo missione a terra 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 ora è un'altra volta standard scende proprio che c'è un cecchino dell'altro detto vabbè cecchino sti cazzi che c'è chi non lo succo reganna più equipaggiamento 100 metri comprare o uno che porta qualche 10 munizioni scherze sulle scatte ma te la sciatola ha lasciato l'aria regalato più ricordato la mia proiette di legato ma io gioco per la sua parola come volare hai assai sotto sopra sopra abbiamo fatto io ho preso e falmare ma io riuscire a piaccia di viaggiamento prega nessuno da dove che porta al palmare no c'ho munizioni scherze su tutti e due i fucili ah possono andare a carica qua sotto però se non mai sventrano ciao oh niente è anche stato sto coglione andiamo la piada che si arriva a gioventù ma non è stato l'avvento è una locale munizioni mai io sono in acqua di armi munizioni e lanciate stanno sul tetto? stanno sul tetto, perchè non passiamo sotto il tunnel? eh? perchè? passiamo sotto il tunnel adesso abbiamo la taglia sopra c'è la taglia sta qua sopra rica allora io vengo a buttarci brazzi tornati alla normalità rica son botto, son tipo c rica son tipo c rica 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 taglio taglia eliminato, bel fatto! sta lì sta lì sta lì sta lì stavoliani pure mina anticarro innescata uno filo fuori ne tazzo l'obiettivo è eliminare il bersaglio taglia attenzione bombardamento di precisione alleato in arrivo ma state sotto raga urlate nantropò? ma dove ci pagano? è una cosa seria urlate nantropò? coordinate definite e me la facciamo a gente ma c'è gente che dormi stanno sopra stanno sopra entrate entrate su è libero da qui da qui è libero in arrivo vanno a fare ca tagliate da solo tagliate 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 non c'è l'amo arriate a quattro qua dentro qua stanno sopra stanno sopra stanno sopra fatto 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 ok ci sono io ok ci sono io c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho non c'è la maschera io io c'è la maschera c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho qua ma arrivo a questi insieme buttano mortacci loro ok arrivato tutti i contatti in movimento nuova zona sicura in cura tutti sopra stanno riga ma c'è un bombardamento qualcosa una terra raga una terra una terra una terra una terra un'altra terra un altro morto dai dai e scuola per la ragazza tutti e quattro siamo arrivati raga dai bella questa o carcola gravi questa ho strimata tutta pure mamma che sta in cazzo grazie a tutti grazie a tutti